Le bombe di Salvatore Richielo trovano riscontro immediatamente all'inizio della diretta annunciando in pompa mani gli acquisti di Orazio Grezio e Marco Tufano. Altre due cirurgie sulla torta su una campagna acquisti di spessore faraonica. Sì, diciamo che erano i primi due obiettivi di mercato. Quando ad aprile abbiamo parlato con Carlo Sanchez di cosa volevamo fare per rinforzare la squadra e cercare di fare una squadra competitiva, i primi due nomi che mettemmo in testa la lista erano Marco Tufano e Orazio Grezio. Poi facemmo altre cose a centrocampo, difesa, abbiamo sistemato un po' con tutti i reparti. Abbiamo reso il secondo portiere 98, Paolo Di Fiore alle spalle di Sollo. Abbiamo rinforzato la difesa con Giuseppe Defensa, il difensore ex Caivano. Una difesa già forte con Cerbone, Capocrosso, Giannino. Poi abbiamo reso il ragazzo 97, Spadera del Procida. A centrocampo lo abbiamo dovuto rifare da capo con Orefici, la montagna a basso, i due ragazzi che abbiamo già forti, Romano e Pelliccia. E poi abbiamo fatto questi sei attaccanti alla Scippa e Sorrentino che già c'erano con noi. Abbiamo aggiunto Marco Tufano, Caso Naturale, Donato Rima e Orazio Grezio. Ci arriviamo domani sera con una nuova presentazione, il grandissimo Cecchetto Caso Naturale per continuare a seguire la grande del Casano. Sì, domani sera c'è il Cecchetto da uno dei nostri dirigenti, Salvatore Cerbone della catena di agenzie di viaggi Puerto Svago, che ha delle agenzie un po' in tutta la provincia di Napoli, non solo, e presso il centro Partenope a Casano a Viale dei Tigli. Grazie a voi. Grazie a voi.